Grazie Massimo, benvenuti a tutti e ovviamente io sono contentissimo di partecipare qui oggi volentieri a questo incontro sul porto che mi dà l'opportunità di ascoltare esperienze e progetti relativi all'innovazione in ambito portuale e logistico facendo presente che per me è una situazione particolarmente curiosa perché fino a un anno fa ero dall'altra parte, ero dalla parte di quelli che facevano innovazione quindi come ingegnere, come imprenditore che si occupava per l'appunto proprio anche di logistica mi viene particolarmente, come dire, oggi strano essere invece dalla parte di quelli che stanno dalla parte di qua della scrivania ad ascoltare e ad ammirare anche le tante iniziative belle che effettivamente ci sono sul territorio quindi porto oggi alcune considerazioni dell'amministrazione comunale sulle prospettive di sviluppo e di rilancio del porto di Livorno intorno alle quali si è concentrato un fortissimo dibattito politico in questo ultimo periodo probabilmente anche frutto dell'ultima campagna elettorale delle regionali che sicuramente ha agevolato molto questo tipo di dibattito è da qui che infatti voglio partire, ribadendo anche in questa sede il mio forte convincimento a voler riqualificare e quindi qualificare nuovamente il porto di Livorno che ritengo una condizione necessaria per collocarlo nelle mappe dei grandi armatori globali questo è il presupposto che sta alla base delle osservazioni mosse fin qui al progetto della Darsene Europa e che continuerò a muovere perché fanno parte del naturale e sano dibattito intorno alla realizzazione di un'opera alla quale è legato lo sviluppo della città il futuro di centinaia di lavoratori e rilancio di un'intera costa, quella appunto della regione toscana e se mi permettete anche una prospettiva di più ampio respiro nazionale visto la posizione strategica che il porto di Livorno ricopre proprio rispetto al territorio nazionale non si tratta quindi qui, come a qualcuno fa piacere credere, di alimentare inutilmente un clima di tensione improduttivo al quale imputare l'eventuale disinteresse degli investitori siamo semmai tra i pochissimi che cercano di portare qualcosa di nuovo all'interno del dibattito che riguarda il porto gli unici peraltro che lo fanno legittimamente nella loro veste di rappresentanti della città e non in quella di portatori di interesse abbiamo denunciato in varie occasioni pubbliche le criticità che emergono dallo studio commissionato dall'autorità portuale della Ocean Ship Consultant che al netto delle questioni relative ai costi spropositati sostenuti con soldi pubblici alla resa dei conti appare con ogni evidenza privo di reali contenuti di un valido modello statistico e supportato dalle previsioni basato su un'analisi della domanda impossibile con forti incongruenze rispetto al recente PRP con quella riguardante come quella riguardante le profondità ma qui non vuole essere l'ennesima polemica non voglio qui mettere l'accento su questa questione per dire ah il sindaco Nogarin ancora una volta all'occasione va bene ce lo siamo detti su questo abbiamo fatto polemica probabilmente stiamo concludendo un importante documento siamo veramente ormai arrivati in fondo ma questo come ho detto vuole essere invece l'occasione per innalzare la qualità non semplicemente perché deve essere un momento di polemica ma perché è esattamente il contrario questa è l'occasione proprio nella diversità di opinione per trovare un confronto per mettersi sul piano del confronto ciò che oggi assistiamo qui come innovazione si basa su questo l'hacking non è un qualcosa di negativo è esattamente il contrario è un qualcosa di estremamente positivo cercare in qualche modo di andare al di fuori degli schemi cercare in qualche misura di andare al di là di ciò che è una visione già consolidata è la ricerca è l'obiettivo primo della ricerca è l'obiettivo primo di percorrere nuove strade e qui stiamo parlando di innovazione quando mai se si parla di innovazione non si va a cercare di percorrere qualcosa di nuovo e quindi è su questo che eventualmente voglio che si concentri l'attenzione non sulla polemica che poi diventa sterile ma sul confronto attorno a differenti vedute perché poi è legittimo qualcuno può anche sbagliare può essere che il sindaco Nogarin sia completamente folle e dica delle cose che sono prive di fondamento però può essere anche di no e quindi quantomeno è legittimo che ci confrontiamo serenamente attorno a queste questioni allora questione che tuttavia viene liquidata dagli addetti voglio saltare tutta la parte polemica che mi ero rimesso lì a scrivere perché veramente non voglio che questa sia l'occasione per fare polemica spesso ci si ferma davanti a delle critiche cercando di liquidarle con approssimazione o faciloneria quando in realtà magari sono questioni estremamente importanti per i cittadini per il loro lavoro e per il futuro che hanno sia i lavoratori e le lavoratrici che i loro figli e per la salute di tutti quelli che dicono magari no rispetto a una questione ma lo fanno in modo del tutto legittimo bene noi semplicemente abbiamo il dovere di dare la voce anche a coloro che in qualche modo hanno una posizione differente lo abbiamo da un punto di vista istituzionale quindi non potrebbe che essere così anzi vi dirò una cosa importante che proprio per il ruolo che ricopro e proprio perché in qualche modo non sono un portatore di interesse va da sé che la mia figura sia quella che notoriamente dovrebbe avere l'opportunità di dar voce a coloro che magari hanno una visione differente chi altri può farlo all'interno di un panorama di portatori di interesse probabilmente credo che l'innovazione passi anche da questo passi anche da quello che in qualche modo è il confronto con coloro che non sono portatori di interesse quante volte ci siamo trovati davanti a innovazioni che sono veramente incredibili che hanno tra virgolette rivoluzionato la vita di ognuno di noi me ne viene a mente una che mi raccontava sempre il professore di materiali all'università di Pisa che ogni volta mi faceva ridere tanto la 3M non è uno dei nostri partner quindi si può parlare tranquillamente senza fare nessun tipo di pubblicità occulta la 3M che conoscete tutti è un'azienda internazionale famosissima è diventata ancora più famosa quando ha prodotto il post-it che è una cosa che ormai tutti noi come dire usiamo quotidianamente bene il post-it tanto per parlare di innovazione è un qualcosa di quasi banale che è venuto fuori da un dipendente della 3M cioè un dipendente della 3M ha avuto questa intuizione l'ha proposta all'interno di quello che era lo sviluppo tecnologico di una grande multinazionale e è diventato un qualcosa di talmente importante che poi lui stesso è diventato 3M non solo da dipendente ma perché ha portato ha contribuito con una innovazione così forte che ha fatto impresa è diventato lui stesso parte integrante della 3M in quanto azionista in piccola parte chi di noi magari non si è trovato davanti proprio nel lavoro quotidiano anche come portatore di interesse avere delle intuizioni avere una visione e dire ma questa cosa la si potrebbe fare in un modo differente magari fatta così sarebbe più facile per tutti oppure riesco a avere una veduta d'assieme tale da poter portare un contributo bene io credo che l'innovazione passi anche da qui e quindi sono assolutamente felice di essere qui oggi come spettatore per osservare queste che sono iniziative assolutamente da benedire nella città di Livorno nella portualità di Livorno ma non solo io ho la speranza che queste giornate di innovazione diventino un qualcosa di costante e che possibilmente diventino un grande classico a Livorno affinché il mondo della portualità riusciamo con forze e con energia proprio a richiuderlo in un contesto di comunità che attorno all'innovazione si ricompatta e trova quindi la forza di andare avanti quindi non necessariamente il sindaco Nogarin è un contestatore lo è nella misura in cui vuol percorrere strade nuove e vuol dar voce anche a coloro che dissentono rispetto alle strade che sembrano assolutamente da percorrere perché senza quelle altrimenti accadono sempre dei disastri quindi con questo voglio concludere dicendo che è curioso che in una città come Livorno una città di sinistra la sinistra che notoriamente fa dell'innovazione il proprio motore propulsivo sia spesso invece resistente al cambiamento sia resistente al cambiamento ma e questa è la cosa veramente bella oggi ci troviamo qui davanti a un qualcosa che invece è il cambiamento è una giornata che in qualche modo va a sancire un percorso come diceva il segretario Massimo Provinciali che dimostra che a Livorno qualcosa si sta muovendo di importante quindi è chiaro che da questo punto di vista io sono assolutamente felice di dare il mio saluto istituzionale prima di tutto ma anche e soprattutto quello di cittadino curioso che come vi dicevo fino a ieri stava dall'altra parte del mondo di coloro che quotidianamente provavano a trovare nuove vie e quindi non posso che abbracciare con entusiasmo una giornata come questa qui grazie allora grazie grazie sindaco